Federazione Italiana Gioco Calcio, campionato agli EVB di merito. Ci incontrano l'Associazione Sportiva Calizzano, un'ora sportiva italianese. Dirige l'incontro il signor Paolo Becchi di Firenze. Formazioni, l'Associazione Calcistica Calizzano. Numero 1, Bianchi. Numero 2, Guerrini. Numero 3, Giani. Numero 4, Neri. Numero 5, Benelli. Numero 6, Giovi. Numero 7, Palloni. Numero 8, Beretti. Numero 9, Repillino. Numero 10, Toccafondi. Numero 11, Giacai. A disposizione del signor Alessandro Lamonica. Numero 13, Cani. Numero 14, Nencioli. Numero 15, Hotti. Numero 16, Papugni. Unione Sportiva Settinianese. Numero 1, Martelluzzi. Numero 2, Borghini. Numero 3, Saccati. Numero 4, Schiavone. Numero 5, Baldini. Numero 6, Viciani. Numero 7, Chiappe. Numero 8, Pourezza. Numero 9, Massa. Numero 10, Spinello. Numero 11, Ricci. A disposizione del signor Alessio Donati. Numero 12, Guerrieri. Numero 13, Bologhietti. Numero 14, Marcatti. Numero 15, Spinelli. Dirige l'incontro il signor Paolo Becchi di Firenze. A disposizione del signor Paolo Becchi di Firenze. A disposizione del signor Paolo Becchi di Firenze. N Christ a învecied. N Christ a usted bà. N Christ a gain la Gotaieでは autorita. N Christ a des talvez! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie!